Ciao e benvenuto in questo video, video che è il primo del mio canale, con questo ho deciso di inaugurarlo e vorrei partire parlando di psicologia. Spesso quando si parla di psicologia vengono in mente varie cose, tra cui il comportamento, le emozioni, il pensiero e spesso anche qualche autore. In particolare come non può non venirci in mente Sigmund Freud, il fondatore della psicoanalisi o psicologia dinamica o metapsicologia. E' stato Freud stesso a dire che ogni giorno noi dobbiamo adattarci sia a ciò che è esterno sia ciò che è interno a noi, a parlare di pulsioni, di angoscia, di dolore e anche di ferite dell'autostima. Ha sempre Freud a sottolineare che la sua teoria doveva essere messa continuamente alla prova dai fatti. Ma più che parlare di Freud con cui prevedo che torneremo su in futuro vorrei citare invece Joseph Sandler. E' stato uno psicoanalista il quale ha scritto un testo, edito nel 1980, intitolato La ricerca in psicoanalisi. E oggi prenderemo riferimento i primi due capitoli. Nel primo capitolo a Sandler parla del cosiddetto indice di Amstead che era un primo tentativo di standardizzare tutto il materiale clinico relativo alla metapsicologia. Potrebbero stabilire, Sandler e i suoi collaboratori, che cosa si dovesse osservare, che cosa si dovesse andare in questo indice. In particolare trattarono quelle che erano definite le unità di osservazione, cioè quei temi che riguardavano la metapsicologia come ad esempio anche l'Io o l'Es, in modo da avere questo indice che permettesse non solo di arricchire la teoria ma di essere immediatamente applicato nella pratica quotidiana. Man mano che in questo indice veniva costruito, e ci sono voluti circa 30 anni, si modificavano le definizioni tradizionali relative alla psicoanalisi e si raffinavano le capacità di osservazione e di concettualizzazione riguardo anche tutta la psicoanalisi stessa. Un punto importante che oggi trattiamo è quello della percezione, perché Sandler ne parla nei primi due capitoli, in particolare nel secondo, il background della sicurezza. La percezione è quel processo e quella sintesi, tutte e due le cose, mediante cui noi abbiamo tramite i dati sensoriali conoscenza del mondo. Cito testualmente da Sandler Per anni il fisico e il filosofo hanno esercitato i diritti sui metodi esclusivi della scienza. Questi metodi sono tuttavia di natura psicologica, perché hanno a che fare da un lato con la percezione della realtà e dall'altro con ciò che ha costruito lo scienziato nella sua mente. La percezione è una funzione dell'Io. Da un punto di vista della psicologia dell'Io, i processi della scienza sono gli stessi che avvengono nella psiche del bambino nel corso del suo progressivo adattamento. Una parte cioè della rappresentazione interna del mondo da parte del bambino. Noi sappiamo, anche grazie alle neuroscienze, che noi formiamo i nostri schemi mentali già a tre anni. Di conseguenza questi schemi che noi andiamo a costruire sono legati alla percezione, perché sulla base di ciò che viene percepito si costruisce la conoscenza del mondo e allo stesso tempo questo comunque può modificare gli schemi interni alla persona, sempre tenendo conto che la percezione avrebbe questa funzione di selezionare gli stimoli sulla base di ciò che per noi è coerente. Infatti siamo tutti molto attenti, volenti o nolenti ogni giorno, al principio dell'Io e di non contraddizione. Sander inoltre sottolinea che lo psicoanalista è uno scienziato come tutti gli altri, intento, impegnato a capire e allo stesso tempo a modificare le teorie interne sulla base dell'esperienza. Nel capitolo 2, il background della sicurezza, le funzioni psicologiche che generano sicurezza quando sono e si trovano in una situazione armonica tra di loro e nel 1925 Freud in Isteria, Scintome e Angoscia, eccolo qua, distingue tra ciò che è l'esperienza di trauma e tra ciò che è l'esperienza di pericolo. Nell'esperienza di trauma c'è un eccesso di energia che la mente non può scaricare in alcun modo, mentre nella situazione di pericolo la persona o l'individuo non può padroneggiare la situazione. Una funzione con la quale l'io controlla gli eccitamenti è la percezione, la quale trasforma le sensazioni in organizzazioni mentali. La tesi di Sander è che la percezione sia un'attività che quindi tiene a bada tutti gli eccitamenti. Ma come possiamo definire la sicurezza? Una prima definizione potrebbe essere riscontrare in un'assenza di malessere e di pericoli, ma non basta, è un qualcosa su cui ogni giorno noi dobbiamo continuamente lavorare, perché il sentimento di sicurezza è un qualcosa che fa sfondo alla nostra vita. Freud nel capitolo 2 parla come di un muscolo contratto, un muscolo che si può anche contrarre. È qualcosa che ogni giorno dobbiamo continuare a ricostruire, ristabilire e riadattare. Possiamo anche dire che il sentimento di sicurezza si trova all'opposto di ciò che è l'angoscia. Comunque il compito dell'io fondamentale sarebbe quello di massimizzare il sentimento di sicurezza piuttosto che quello di evitare l'angoscia. Bene, io con queste poche parole avrei concluso, spero che sia stato chiaro, qualcuno vorrà approfondire, quindi pure scrivetemi, fatemi sapere, io cercherò di venirvi incontro, ma prima di salutarvi vorrei, devo anzi e voglio salutare le persone che mi hanno dato una mano nella costruzione del canale, nel frattempo che dovevo cambiare computer e in questi mesi a cercare diverse cose che sono Matteo e Matteo, Umberto, Enrico, Elia e Luca. Vi ringrazio molto, ve l'avevo promesso ed ecco qui. Vi ringrazio anche di avermi seguito fino a qui, fatemi sapere come dicevamo prima, io vi mando un caro saluto e a presto!